Salve a tutti e benvenuti su AllpizTV, all for your time, prima o poi viene a porre tu, su AllpizTV. Andiamo con un'altra piccola canzoncina dal titolo Perché? Vado, un, due, tre, bisogna darsi da fare, da sé, quando in giro c'è poco o niente da imparare, quando tu mi chiedevi, ma tutta questa nullità cos'è, io ti rispondevo questo è quello che ci meritiamo, ma non mi chiedere perché, bisogna darsi da fare, da sé, quando in giro c'è poco o niente da guardare, chi ci ha fatto credere che tutto sarebbe cambiato, costui è un burattino, mai una volta sentito o considerato, bisogna darsi da fare, da sé, quando in giro non si vede niente, e tutti sanno perché, la, 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 il risultato era scontato, speriamo che questo momento venga in fretta dimenticato, bisogna darsi da fare, da sé, quando in giro non si vede niente, e tutti sanno perché. All elbow teatv, all for you, tanto prima e poi viene pure tu, Mauricio Omar, statti a fermi, ma quando mai, cavalloni giganti per tutti quanti, con questo vi saluto e vi rimando alle prossime, e come sempre, all elbow, all for you, tanto prima e poi viene pure tu, a radio 10.